Grazie Io infatti quando vado all'ora di punta e me ne vado sull'autobus o sulla metro e cerco di prendere quella con l'aria condizionata e mi faccio 3-4 giri. Poi verso le 3-4 e cerco di andarmene su un parco da qualche parte. Il caldo porta comunque tutta una serie di altri problemi. Le persone hanno problemi banalmente da un punto di vista dermatologico più forte, di affaticamento maggiore, sono più fiacche, è più difficile fare tutto. Grazie